Salve a tutti amici di CDK, qui la vostra Asker che vi parla e vi dà il benvenuto. Nel video del 30 settembre è dedicato ai giochi in uscita, ai giochi gratis e ai giochi scontati che CDK è da proporre. Se invece volete conoscermi meglio potete venirmi a seguire sul mio canale principale di Twitch per tanti giochi come Overwatch, Fall Guys, Among Us, Overcooked, Tetris 99, The Binding of Isaac e tanto altro. Quindi iniziamo con il video. Il primissimo gioco gratis che presentiamo è Path of Exile, un giocone che assolutamente dovete giocare se adorate i giochi RPG anche in Slash. Io l'ho già giocato con i miei amici ed è bellissimo, io poi adoro questo stile di gioco anche in Slash, poi adoro pure i giochi RPG quindi assolutamente dovete giocarlo, provatelo. Altro giocone molto importante che finalmente hanno messo free to play è Rocket League. Lo stavamo attendendo da un po', quindi assolutamente chiamate i vostri amici e giocate questo divertentissimo gioco anche perché l'Epic Store sta andando un coupon di 10€ al riscatto del gioco, quindi mi raccomando approfittatene. Altro gioco gratis per ancora un giorno sempre sull'Epic Store è Roller Coaster Tycoon 3 Complete Edition, dove dovrete gestire e costruire il vostro parco di divertimenti personale. E sembra molto interessante anche perché adoro questi tipi di giochi strategici di simulazione e sono molto tentata di scaricarlo e giocarlo. Altro gioco che sarà disponibile ancora per pochi giorni soltanto per chi ha il PlayStation Plus è PUBG, il nostro famosissimo gioco Battle Royale. Assolutamente dovete giocarlo, chiamate i vostri amici e giocatelo insieme, anche perché questo gioco va anche, continua ad andare molto di moda anche su Twitch, quindi assolutamente giocatelo. Per le prossime uscite, oggi, finalmente, esce The Sojourn, un gioco che io sto iniziando a conoscere proprio in questi giorni grazie a CDK, ed è un puzzle game che vedo uno stile grafico e un'atmosfera molto accattivante, stavo addirittura pensando di portarlo in live, chi lo sa, vedremo. Invece il 2 ottobre esce Crash Bandicoot 4 It's About Time. Se siete appassionati dei giochi di Crash e quindi vi sono piaciuti i precedenti capitoli, assolutamente dovete tenere d'occhio questo capitolo, anche perché sul sito è super scontato, quindi assolutamente tenetelo d'occhio e compratelo. Sempre il 2 ottobre uscirà Star Wars Squadrons, finalmente, era un gioco che stavo attendendo da un po', anche perché io adoro il mondo di Star Wars, e in questo gioco il giocatore dovrà imparare a guidare e padroneggiare una navicella spaziale. Io già lo adoro, ho già visto il gameplay, mi sembra fantastico, non vedo l'ora di comprarlo. Invece il 6 ottobre esce Baldur's Gate 3. Se avete giocato i capitoli precedenti, o comunque siete appassionati di giochi in stile RPG, ma soprattutto se adorate giocare anche a Dungeons & Dragons, assolutamente, è il gioco che dovete comprare e giocare, ve lo straconsiglio, mi raccomando. Per gli sconti abbiamo all'80% di sconto, quindi assai, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Legacy. Se siete appassionati comunque dell'anime manga Naruto, comunque se seguite le vicissitudini dei protagonisti, assolutamente questo è il gioco che fa per voi, anche perché, ripeto, è super scontato sul nostro sito, dovete approfittarne. Sempre scontato all'80%, abbiamo Ancestors The Humankind Odyssey, che io non conoscevo come gioco, ma vedo che è quel tipico gioco open world di esplorazione, l'avventura che io adoro, e sono molto tentata di provarlo e vedere com'è. Nel caso anche voi dategli una possibilità. Altro gioco qua super scontato è The Crew 2, questo in passato l'ho giocato. E mi sono divertita un mondo. Se volete giocare e provare un gioco di corse un po' diverso dal solito, assolutamente questo è il gioco che potrà fare al caso vostro. Quindi assolutamente provatelo, anche perché costa pochissimo. Ultimo gioco super scontato è The Grip, che costa poco meno di un euro, ve lo straconsiglio se volete provare magari un gioco di corse un po' diverso dal solito, ve lo straconsiglio. Noi comunque con quest'ultimo gioco concludiamo il video di presentazione di questa giornata del 30 settembre. Vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo a una prossima giornata. A presto, ciao ciao! Ciao!